Ragazzi, volevo iniziare questo video con un urlo No, no ragazzi, scherzo, scherzo, scherzo Ragazzi, no, non inizio questo video con un urlo Comunque, a parte le urla Benvenuti su Avanti Un'altro Gioco che in realtà mi sa che ho portato tipo... No, in realtà è una settimana... Vabbò, qualche settimana fa E vabbò, ragazzi, iniziamo Avanti Un'altro Il colore complementare del verde è... Si faceva con un bluer... No, blu? No, secondo me è strano... Dalle supernova In cosa consiste? Test della personalità, ok? Qua viene abbreviata la velocità della luce nel suono in un... C? Ok, ok, bene Bene Bene, bene, bene 75.000 Ragazzi, le domande in cui più difficili mi fanno tutti questi... Se fosse Salerno si caraverebbe... Gabino Pancetta Kevin Bacon Tommaso Crociera Guglielmo Cancelli Proprio lui Guglielmo Cancelli Quaranta... Cacchio, cinque Puffiamo e da tanto tempo che non puffiamo Chi puffava questa canzone... Si, mi ricordo Ok Non lo so, ragazzi, avevo già fatto questa domanda e mi ricordo che... Non lo so, avevo risposto ai personaggi meno famosi Infatti Già, andiamo al... Ok Apelle o Pollo Nello scioglilingua Chi era il padre? Apelle India o Tibet In quale nazione le vacche sono sacre? Tibet Sabato o lunedì Quale giorno segui il weekend? Sabato Zucchero o sale? Mina e Scelentano che cantano acqua e zucchero Bichini o topless? Sono più coperte le ragazze in topless Aprile o maggio? Quando si festeggiano i lavoratori? Aprile? Farnesina o Quirinale? Dove sta il ministro degli esteri? Farnesina Cacchio E mi sono scordato questa domanda Vabbò Ragazzi, mi sono visto... Ho fatto un po' di shorts sulla finale dei mondiali Veramente incredibile quella finale dei mondiali Pasqua o Ferragosto? Cosa accade in primavera? Ferragosto Petrarco Boccaccio Chi ha scritto il canzoniere Boccaccio? Vinkie Valentino Ok Anglicano o cattolica? Elisabetta II d'Inghilterra Di che religione è? Cattolica? Statico o movimentato? Contrario di dinamico Movimentato Nebbia o neve? Come si chiama il cane di neve? Regino o re? A chi si dà scacco matto? Re Cazzo È vero che Devo ricordare Ragazzi, ricordate del meme della regina che era forte? Cioè Io mi ricordo il meme I meme sugli scacchi Mio Dio ragazzi Andavano nel 2020 insieme Ai meme sulla regina Elisabetta immortale Il karma alla fine ha colpito Cattolica Movimentato Neve Giorgio Pausini Che ha deputato prima Pausini Laura schife Laura schifosa Non ti meriti niente Scusate per i versi Ormai sono diventato Ice Show Speed Quando gioco davanti un altro Beccatevi questo ASMR Mer rilassante George Pennello scalpello Cosa so Michelangelo per fare il David pennello I alpino bersaglieri Quel colpo d'esercito I bersagli Mer La regina Giorgia Pennello Gli alpini Polpo Scorfano Scorfano Scopo Suv Suv Buono grande Massa del supermattivo Di buono No si E' giusto dire Potiamo No Suv 48 Cioè Non è il massimo Però Signori e signori 48 Mila Cioè Senza qualche errore Forse ci sa Vabbò Vabbò 48 Mila Signore e signori Ok salviamo il punteggio Continuiamo Grazie per Allora Iniziao sto gioco Quale uccello ha il becco più lungo? Tucano Ok Riesce a trasportare pesi Scrapeori Non c'è niente Ok Quali tra quei seguenti animali è il velleno più potente del mondo? Vespa di mare Può raggiungere il peso record di 190 tonni Ok me lo ricordo che la balenotte era azzurra La blue whale Ragazzi Assolutamente scoperto Allora Sicilia Ok Il Tokai Sembra molto da Friuli Ok Il Vapolicella da Veneto Ok Non lo so ragazzi Ma diciamo L'olfatto mi ha detto questo Cosa significa Parsec Ok Cos'è la velocità di fuga? Ok Quali sono i pianeti in aria del nostro sistema solare? Nice Ragazzi Ragazzi oggi è stata È stata Ok Qual è la Nemesi? Vabbò Un pollo gigante Un canta No Il vicino Climeland Diverse Quagmire Bojack Horseman Ok Bene Continuiamo Continuiamo 10 Cacchio 10.000 Quale Papa è il post in? Ok In quale anno l'Albania? 890 No Croce Rossa Qual è il nome dell'istituzione Quando C'è Cacchio Era Allora Giustiziato No Strangolato da un soldato Eh non le so ragazzi Ste cose Kramer contro Kramer American Beauty A spasso con D Ok Ok 38.000 Ok Lambrusco mi sembra da Toscana Ok Chianti è Da Veneto No Chianti invece era da Toscana L'avevo sentito il Chianti Effettivamente Youtube Kids Signore e signori Proprio quello Youtube Kids Ok Ungheria è la risposta Budapest Belgio e dove è Bruxelles Norvegia e dove è Oslo Ok Me ne mancano 100.000 Senna Ok Reno Bene Senna Ticino Cioè Ho fatto In che Sardegna Foggia Puglia Quella Quella spazzatura Emilia Romagna Ok Solo 10.000 Per una cosa Torno a Compre un'azienda Ci c'è il pollice Seconda Eh cacchio L'Italia che si è qualificata Ragazzi Alla storia del 2012 Ragazzi Era Incredibile Era veramente Incredibile Però ragazzi C'era una Spagna Non sapevate Com'era la Spagna Tedeschi Contro Russi Ok Sarajevo Perfetto Ok 25.000 Vedo 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 Lunedì Ok 2018 D'autunno D'autunno Ok 53 anni Ancora Però Non tirava No Ragazzi Ragazzi Non era Black Humor Quello che Stavo Stavo facendo Noi Tenimmo Maradò Oh 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 Abisado Ujabò Oh 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 Omero Bart Bart Un verbo sostativo Cos'è la partolora Altarve Un verbo Impero Corte Un immenso dominio Corte Lupo Cane A quale animale Si associa Ululare Cane Verde o giallo Qual è un colore primario Giallo Ecco Ecco Devo ricordare Cosa sono i colori primari Effettivamente Termopili o piramidi Qual è il nome Dell'antichese Termopili Giordani o Siria Damasco È la capitale Della Siria No Non era Non Avvo ragazzi Devo aggiornare Sicuramente Su Giordani Si restringe o si allarga Cosa succede Se alla pupilla Si allarga 30 o 40 Quanti erano i padroni Di Alibaba 40 Non lo so ragazzi Alibaba È qualcosa È qualcosa che non sento Da Da tipo 6 anni Quindi Quindi Col cacchio Che io Che io posso sapere Quanti esattamente erano Non era Mi sa che non erano Nemmeno 69 Continuiamo Sopracciglia Dove metto il rimel Alle sopracciglia Eneolis Come si chiamava il protagonista dell'odissea Enea Giulietta Giulietta Chi dei due Muore prima Romeo Ragazzi Mi ero anche visto Mi ero anche visto Un film su Romeo Giulietta Vabbò ragazzi Mi ero scordato Che dovevo rispondere Sbagliato Ragazzi Questa la tagliamo Ragazzi Si allarga 30 Sopracciglia Enea Giulietta Panama Suez È più lungo Il canale Di Panama Nome Cognome Mazzini E Garibaldi Avevano lo stesso Cognome Lago Fiume Dalle Alpe Alle Pinoidi Dal Manzanarre Al Reno Che cos'è il Manzanarre Un fiume Eh ragazzi Non l'ho mai sentito Questo Manzanarre Eh ragazzi Mi sa che non Fatremo Due volte di fila Una vittoria Davanti un altro Sicuramente Perché Perché abbiamo Giocato abbastanza Male Soprattutto 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 Che la cosa Di Romeo Giulietta Era meglio Che non la sbagliavo Cacchio Cioè Ci provo L'Alzheimer Ho l'Alzheimer Ragazzi Ho l'Alzheimer Ok Soffro di Alzheimer Ok Non posso Ricordarmi tutto Sostenute No No ragazzi Non faccio Quelli su TikTok Che letteralmente Scoprono Che loro figlio Che letteralmente Fingono Di essere disabili Per poter Ragazzi Chi va Non avrei mai fatto Non avrei mai Conte Vabbò Ragazzi Tanto Vabbò Ci vediamo Domani Speriamo Con qualcos'altro Che posso portare Sperenzo